Per lo sviluppo delle aree interne e per bloccare lo spopolamento serve l'impegno sinergico di cittadini, chiese e politica, terminato nel Sannu il Forum dei Vescovi che per due giorni si sono confrontati presso il Centro La Pace, sulle strategie da adottare affinché tutti i cittadini delle zone interne d'Italia abbiano gli stessi diritti di quelli che risiedono lungo le fasce costiere e nei centri metropolitani. Il risultato dell'incontro sarà ora presentato dai Vescovi anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi. E' venuta anche una parola di esortazioni, di invito alle istituzioni a prendere in mano la questione perché in fondo una questione del genere non può essere affrontata neppure dai singoli enti locali, deve essere presa in mano dal Governo centrale e deve trovare poi una sinergia con gli enti locali cercando di remare tutti nella stessa direzione. Soddisfatti i Vescovi arrivati da dieci regioni d'Italia e che si sono confrontati a lungo su problematiche e soluzioni possibili. Un desiderio di prossimità reale tra tutti i Vescovi di tutte le chiese e le aree interne ed anche un'attenzione ancora più evidente per una pastorale che sia rilevante per le nostre comunità. Qui veramente bisogna riscoprire e rinnovare la pastorale di Sant'Alfonso che nel 1600 capì che bisognava uscire dalle chiese per andare in mezzo alla gente, per andare lì dove il popolo viveva.